Procedure per la gestione degli eventi in regola col GDPR. In questo podcast parleremo fondamentalmente di due cose, la gestione online e la gestione offline di un evento, che in realtà sono solo una, la gestione a norma GDPR di un evento, perché per evento intendo tutte quelle situazioni organiche, digitali, non digitali, dove noi ci esponiamo verso l'esterno ed esponendoci recuperiamo informazioni. Quindi intendo i social network, ma anche gli eventi fisici, come le fiere e le altre attività dove fondamentalmente noi utilizziamo strumenti digitali, ma anche non digitali, perché ricordiamoci che ci sono anche tutta una serie di strumenti che non sono solo digitali e dove si va a recuperare, gestire e trattare dati personali. Per gestire un evento a norma servono delle procedure. Vediamo di costruire un filo rosso. Costruiamo un percorso fatto di bandierine in un campo minato e capiamo come si mettono giù le bandierine, quanto sono importanti per non finire col pestare una mina. Qual è il valore delle procedure? Della procedurizzazione, del capire dove andare, come andare e perché fare quel percorso e non un altro, e di renderlo sempre uguale in modo tale da migliorare. Quanto è importante riuscire a definire delle procedure? Le chiamiamo così, anche se siamo noi italiani, ad avere l'isteria verso la procedura, perché gli inglesi la chiamano policy in generale, in modo molto più figo, più elegante. Noi invece, quando parliamo di procedure, già pensiamo «Oddio, la burocrazia, oddio, cosa devo fare?». Nell'evento digitale e nell'evento fisico, li accumuliamo perché saranno diversi finché vuoi, ma poi spesso il risultato atteso è lo stesso, la procedura è una grandissima misura di accountability. Prima di tutto perché dà delle regole e quindi vuol dire che qualcuno a quel processo ci ha pensato è che ha visto che quel processo ha anche un impatto privacy. Ricordiamoci che una procedura di gestione eventi non ha solo un impatto privacy, ha anche altri impatti. Per esempio, prendiamo un evento fisico, dobbiamo chiamare l'ambulanza. Questo non ha nessun impatto privacy, ma se fai eventi di un certo tipo, devi avere anche la disponibilità dell'ambulanza. Quindi, se hai una procedura, vuol dire che a quel processo ci hai pensato, hai visto che ha delle problematiche anche privacy e hai anticipato possibili problematiche. Questa è la prima evidenza di accountability. La seconda evidenza di accountability è che tu puoi farci gli audit, puoi fare i controlli, che vengono richiamati in tanti punti del GDPR. La procedura è un elemento importante, perché altrimenti i controlli a fronte di cosa li fai. La procedura però genera sempre la pelle d'oca, perché noi la vediamo come qualcosa di monolitico. C'è questa regola e questa regola non si può modificare. Non è così. Le procedure ben fatte si possono modificare, ma c'è un altro aspetto ancora da considerare. Quando c'è moltissima variabilità, come nel caso degli eventi, lo strumento più corretto non è la procedura, ma un ancora più sofisticato, la linea guida. Qual è la differenza fra procedura e linea guida? Mentre la procedura dice devi, 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 quindi lo spazio di negoziazione è zero, la linea guida dice dovresti, dovresti, dovresti. Quindi io titolare sono così consapevole che questo processo, per esempio il processo di gestione eventi, ha moltissima variabilità che non posso fare un percorso, pensando che chi lo gestisce opererà sempre in un certo modo. In un evento ci sono così tante variabili che entrano in gioco che è consapevole di questo, dico, traccio una linea. Tu che gestisci questo processo dovresti fare questo e questo. Alcuni passaggi non li fai o li fai diversamente da come li ho regolamentati io? Ci sta, lo accetto, perché sono consapevole della variabilità. Però mi devi giustificare il perché alcune cose non le hai fatte o le hai fatte in modo diverso. È uno strumento meno rigido, più aderente ad un contesto che cambia, anche perché la gestione degli eventi si tira dietro un elemento caratterizzante. Le aziende, ogni giorno, si inventano un evento nuovo, quindi non è possibile avere un binario troppo stretto in cui operare. Puoi stare fuori da quel sentiero, ma mi devi giustificare, se te lo chiedo, il perché. Quindi ancora più accountability. È chiaro che per applicare una linea guida non ho bisogno solo di una persona che conosca le procedure e le regole, ma ho bisogno di una persona che sia consapevole di che cosa vuol dire applicarle. Punterei l'accento sulla consapevolezza, perché quando parliamo di eventi, dove la variabilità è veramente vasta e abbiamo anche tante vulnerabilità, è importante che il team marketing che si occupa della gestione degli eventi sia formato sul trattamento dei dati personali e sulla privacy. E nello stesso tempo, consapevolezza significa conoscenza degli strumenti che hai in mano e del loro impatto sui dati. Quindi conoscere i social, come si muovono e come effettivamente trattano i dati personali. Dove si trovano i social? Ne abbiamo parlato molte volte. Crediamo che i social siano solo americani, ma non è più così. Molte aziende iniziano a fare business con social che non sono americani, ma sono ad esempio cinesi, come TikTok, per cui è importante avere consapevolezza di dove finiscono i dati. Secondo punto è stabilire delle regole all'interno del team marketing. Consapevolezza significa quindi formazione e darsi delle regole di gioco, considerando che il marketing non avviene solo online, ma ci sono degli eventi, come per esempio le fiere, che vengono organizzati fisicamente e dove anche noi, come consulenti, dobbiamo essere in grado di indirizzare il cliente in modo tale che il trattamento dei dati personali venga fatto in modo lecito. Dovremmo essere informati fin da subito dell'evento, perché poi cosa succede? Il marketing avvia l'evento e poi chiama il consulente, mentre il consulente dovrebbe invece conoscere fin da subito qual è il progetto dell'evento per verificare che il trattamento sia lecito. Anche perché la maggior parte degli eventi ormai è costruita come un mix online e offline. Si usano tablet per la raccolta dei dati e allo stesso tempo flyer cartacei. Il cliente, l'azienda che organizza l'evento, deve essere consapevole del valore dei dati e di come questi possono dare valore al business, ma anche che siano raccolti in maniera conforme al GDPR. Noi consulenti abbiamo un problema. Se il cliente non ci dice prima che sta per fare un evento, abbiamo difficoltà ad intervenire e ad aiutarlo a gestire la situazione a norma GDPR. Come facciamo ad obbligare i direttori marketing, i responsabili della comunicazione, l'amministratore delegato a farsi contattare preventivamente? Esiste un modo per procedurizzare questa cosa? Se sì, come fare? C'è l'evento, online, offline, online, offline, è uguale. Se l'azienda ISO 9000 e non ci contatta prima di organizzare l'evento, ma lo fa a cose fatte, per noi consulenti e per il cliente diventa un problema. Il senso è, chiamami prima di fare la frittata, quando hai ancora l'uovo intero, non quando lo hai messo in padella. Dimenticherei l'ISO 9000, che è uno strumento che può aiutare, ma diciamo che è dentro l'accountability, la necessità della procedura e di contattare il consulente per tempo. Immaginiamoci l'evoluzione. L'azienda comincia a fare degli eventi, all'inizio chiama il consulente quando ha già fatto tutto, e poi ha il dubbio, per esempio, se si possono scattare le foto col drone. Dopo tre o quattro volte che gli eventi si ripetono e tu, come consulente, capisci che la rincorsa a rispondere alla domanda è una misura inadeguata e la risposta nasce perché c'è stata la domanda, perché se non ci fosse stato il drone manco ti avrebbero chiamato, allora inizi a proporre una procedura o linea guida. Però hai bisogno di una certa potenza di fuoco per poterlo fare, non di un evento all'anno e devi andare a mettere dei capisaldi. Come fai a fare in modo che ti chiamino dove serve e quando serve? Ricordiamoci che una procedura o linea guida ben fatta copre il 70-80% dei casi possibili. Mica può contemplare il 100% dei casi possibili, perché nessuno li conosce. A te interessa che, regolamentato l'80% dei casi, ti chiamino per il 20% di quelli non coperti dalla procedura. Dove nasce la ragionevole garanzia che ti chiamino? Nasce dal fatto che, avendo elaborato un modello con loro, hai lavorato anche sulla loro consapevolezza e hai tolto loro una serie di problemi. Perché non puoi fare una procedura che aggiunge dei problemi, devi fare una procedura che ne toglie e che li fa riflettere su un altro aspetto. Su questo faccio un esempio che, secondo me, chiarisce quello che voglio dire. Un esempio per capire cosa significa rendere consapevole il titolare del trattamento nella gestione degli eventi. Al cliente il consulente deve dire «Se tu non vedi bene i vari pezzettini della tua catena, rischi di fare degli errori che possono anche compromettere il tuo business». Ad esempio, se un cliente decide che a tutti i suoi distributori che superano un certo fatturato regala vari premi, tra cui anche un viaggio per il distributore vincente e per la sua famiglia, questo è a tutti gli effetti un evento. Se di procedure non ce n'è nessuna, ad un mese dal viaggio la chiamata col proprio consulente potrebbe essere più o meno così. Cliente «L'operatore turistico che gestisce il viaggio vuole la registrazione dei dati. Lo può fare?» Consulente «Sì, può farlo. L'operatore sarà titolare autonomo del trattamento». Cliente «Benissimo!» Consulente «Aspetta!» Guarda che poi, in quanto titolare autonomo, l'operatore turistico chiederà il consenso per inviare materiali di marketing e per inviare dati a terzi. E il cliente «Sì, sì, va bene». E il consulente «Guarda che gli stiamo regalando il database dei vostri distributori che fanno un certo fatturato. Vi va bene fare questa cosa?» Il cliente «Ah, no, questo non lo avevamo pensato. Questo non ci va bene. Vuoi dire che loro possono prendere questo database e venderlo?» Consulente «Eh, sì, certo. Possono prenderlo e venderlo. Lo possono fare con chi gli ha dato il consenso». Il cliente «Ah, no, assolutamente no. A questo non ci avevamo pensato». Questo esempio ci fa vedere che il cliente chiama per una banalità ma poi lo fai riflettere. In questo caso stavano regalando un database a qualcuno che di lavoro non ha a che fare con i distributori di prodotti del loro settore ma che potrebbe rivenderlo. Si sono spaventati ed è questo che dobbiamo portarci a casa. Dobbiamo portarci a casa a qualche caso in cui li spaventi e gli fai capire che la procedura o la linea guida regolamenta per l'80% e che devono alzare la mano e chiedere nel 20% degli altri casi. La ricchezza legata alla variabilità della situazione potrebbe essere molto più ampia di quello che a prima vista non potrebbe sembrare. Quindi un po' di bastone e carota giustamente. Nella mia esperienza soprattutto negli ultimi tempi e soprattutto con aziende un po' più strutturate siamo riusciti a mettere in atto delle regole anche tacite se vogliamo perché lavorando insieme a stretto contatto e testandoci a vicenda si sono resi conto che ogni qualvolta utilizzano un social o uno strumento digitale e c'è un dato personale e le attività di marketing hanno intrinse quel dato personale c'è il discorso della privacy e dalla privacy non si può prescindere. Quindi ci si approccia ai clienti bisognerebbe chiarire sempre che è importante definire delle social media policy. Nella maggior parte dei casi capita che nelle aziende l'ex dipendente ha ancora in mano le credenziali della pagina Facebook dell'azienda oppure non si trovano le credenziali di WordPress o è stata fatta la migrazione di un sito internet ad un altro chiudendo il vecchio WordPress situazione in cui si capisce che non c'è la sensibilità nel discorso della privacy. In questi casi ci si rende conto che è importante istruirli. Il primo passo è la formazione che non deve essere per forza ti faccio una lezione ma significa che tu sei presente sei in team li ascolti guardi come lavorano cerchi di istruirli senza invadenza perché la privacy è carta per le aziende la privacy è noiosa invece il messaggio che va dato sempre ai clienti è che la privacy e i dati personali sono valore sono il pacchetto clienti futuro i dati sono la nostra moneta per cui è importante che si tutelino gli interessati ma allo stesso tempo la privacy è il nostro patrimonio informativo è il nostro know-how nel momento in cui il marketing capisce che la privacy può generare valore a quel punto iniziano a interessarsi e quindi a stringere accordi di cotitolarità accordi di co-marketing a chiedere il contratto al fornitore al web hosting quali sono quindi gli aspetti GDPR e gli aspetti privacy più critici nella gestione degli eventi rispetto al marketing e al discorso degli eventi è importante che si costruisca una buona informativa che il consenso sia raccolto in modo corretto che gli strumenti social siano strumenti con cui abbiamo concluso un contratto abbiamo una licenza e nello stesso tempo le criticità maggiori riguardano sicuramente il periodo di conservazione perché il marketing vorrebbe tenere i dati in maniera illimitata quindi è importante trovare un criterio per tenere i dati il più possibile in conformità con il GDPR un altro aspetto critico è che la maggior parte dei siti e delle pagine aziendali non sono costruite privacy by design non si conoscono i contratti che concludiamo per esempio con Facebook Instagram e altri social come TikTok perché non ci sono impatti solo privacy ma ci sono anche impatti diversi ad esempio una cantina vitivinicola che lavora nel settore del food del beverage non può aprire una pagina TikTok perché il vino è bannato da TikTok quindi prima di fare degli investimenti sui social è importante capire se quel social è adatto alla nostra attività noi come consulenti ci occupiamo di dati e visto che i social hanno come core business i dati non possiamo non conoscerli dobbiamo avere una conoscenza approfondita delle campagne di advertising e di quelli che sono i contratti che stipuliamo con i social bene abbiamo visto quanto continuo le procedure nella gestione dell'evento e come far sì che il cliente contatti il consulente privacy o il DPO prima di organizzarlo e non quando le cose sono già state fatte e forse male ora parliamo dei fornitori a cui ci affidiamo per la gestione degli eventi e se il fornitore esterno non è a norma? una volta che abbiamo deciso di fare un certo tipo di attività che abbiamo deciso di fare un certo tipo di campagna marketing ci affidiamo spessissimo a dei fornitori esterni la scelta del fornitore esterno diventa importante non solo per la qualità del servizio che mi dà legato all'evento fisico o digitale ma anche legato alla sua adeguatezza nell'avere le procedure corrette e avere un'attenzione privacy by design fornendomi un pacchetto chiave in mano non solo la gestione dell'evento ma anche l'adeguatezza al GDPR il problema è che i fornitori sono scelti spesso prima di fare il tutto non dopo la maggior parte dei fornitori quindi delle agenzie di comunicazione web agency più piccoli e in provincia spesso sono poco adeguati al GDPR o non hanno una nomina da DPO e lo si percepisce subito nelle aziende bisognerebbe fissare una regola per cui quando si decide di cambiare fornitore il marketing dovrebbe comunicarlo ad un referente della privacy quando invece i clienti sono proprio le agenzie di comunicazione bisognerebbe dire che per loro la privacy è un valore aggiunto imprescindibile nel senso che è il loro biglietto da visita oggi se non hanno la privacy dal mio punto di vista da qui ad un paio d'anni potrebbero essere addirittura fatte fuori dal mercato non si può gestire un cliente senza avere un adeguamento normativo privacy purtroppo ci sono moltissime agenzie di comunicazione oggi che non tengono conto di questo e devono avere loro in primis la privacy e poi devono farla ai loro clienti devono sapere cosa significa fare un sito privacy by design che è necessaria una scheda di realizzazione di progetto devono conoscere anche solo delle terminologie cosa sia un vulnerable assessment per esempio o un'analisi del rischio e oggi purtroppo siamo ancora molto indietro devo dire che invece nelle grandi città c'è un po' più di sensibilità verso questo tema le agenzie di comunicazione quando ti propongono dei contratti contengono la nomina responsabile esterno o hanno delle clausole privacy ben costruite il fornitore è sicuramente un pezzo fondamentale di questo processo quando inizi a tirare dentro i fornitori dovresti chiederti quanto è necessario quel fornitore quanto è necessario dare a quel fornitore una valanga di dati se andassimo noi a fare quell'attività e non gli dessimo il database perché il problema non è che non gli voglio dare il database ma poi quel database lì che fine fa che garanzie ho che poi i dati vengono cancellati attenzione questo problema potrebbe averlo anche l'agenzia di comunicazione che si rivolge ad un fornitore per conto del suo cliente o di un suo sub fornitore a questo punto tu hai bisogno di selezionare i fornitori guardando alla loro capacità di gestire correttamente i dati soprattutto dopo l'evento come gestiscono le cancellazioni perché l'evento in sé ha un tempo di gestazione tutto sommato piuttosto breve quindi il vero punto è chiedersi come questi cancelleranno le informazioni raccolte è questo tipo di valutazioni che bisogna compiere su questo ultimo miglio ricordiamoci poi che un evento è un'occasione per lanciare qualcosa spesso qualcosa di riservato ad un gruppo ristretto da tenere nascosta la concorrenza parliamo del know-how dell'azienda quindi è la tutela di un pacchetto di dati in cui i dati personali sono solo una parte di una ricca